Ciao ragazze, eccomi per un video dedicato agli acquisti creativi, kawaii di Aliexpress, Temu e Shin, stickers, notebook e tanto altro. Adesso parto intanto con questi due articoli che mi sono arrivati da Aliexpress. Allora questo è un notebook di quelli con la copertina trasparente, questi sono i divisori, ci sono vari tipi, io ho scelto questi, ho scelto la tipologia questa con i gattini fatti così. Ho provato anche a vedere se c'erano su Pinterest per stamparmeli ma queste immagini non ci sono, io le trovo deliziose e quindi insomma mi sono presa questo notebook. Qui c'è, insieme hanno mandato anche degli adesivi con un orsetto, gli adesivi così che non credevo neanche che mi venissero perché non avevo capito e sono già pretagliati, sono molto carini. Poi dentro al notebook c'è una busta che va inserita, cioè dentro al kit insomma c'è la busta, poi c'è un righello e dei fogli a quadretti e dei fogli bianchi che poi andrò a inserire. Poi un'altra cosa che mi è arrivata perché ho sempre bisogno di mettere in ordine i tanti adesivi che ho è questo, mi piace tantissimo il fatto che abbiamo messo gli adesivi uguali alla confezione, cioè uguali alla bimbetta qui davanti, questo è un porta stickers, mi piace perché è decorato e ha all'interno tutti questi adesivi, belli grandi e vanno tagliati naturalmente e quindi poi si infilerebbero qui dentro, molto molto, guarda che bello grande per fare le decorazioni, c'è tutto, vedete la piscina, varie ambientazioni, ma ogni foglietto riguarda la stessa cosa, molto carino, si possono creare proprio delle pagine a tema, molto carini. Ve li faccio vedere tutti, questo è natalizio, cantanti, insomma, molto molto carini. Li metterò tutti dentro e poi vedo se ci stanno anche degli altri stickers che ho. Ecco appunto mi piaceva il fatto che è decorato perché questo che avevo preso tempo fa aveva la copertina così trasparente e poi vabbè io ci ho messo dentro un po' di cartoncini, un po' di tutto perché io tengo sempre tutto anche dalle confezioni degli adesivi perché non si sa mai che un giorno mi possono servire tipo questa, quindi mi sono fatta un porta cartoncini e questo insomma porta adesivi, anche quando si vanno a tagliare le varie pagine tipo queste qui che poi si vanno a tagliare e poi tutti i pezzi naturalmente bisogna infilarli da qualche parte e questo è utilissimo, molto carino, così molto dolce, molto simpatico. Ho acquistato questi due astucci che ho preso da uno da Shein credo e uno da Temu e mi servono, mi vanno molto bene per inserire tutte le mie penne in questo modo, non avere il classico astuccio fatto a bustina ma mi piacciono anche così rigidi, qui hanno un elastico, questo ha due cerniere e poi c'è questo che invece ne ha tre e anche qui ho inserito matite e un po' di altro insomma che avevo pennarelli, mi piacciono perché questo per esempio si possono tenere qui così sulla scrivania mettendoli così e mettendoli là da una parte così mi vedo bene anche le figure quando sto seduta, ecco mi piaceva la cosa perché non erano sempre le solite bustine allora questo devo averli presi da Shein quasi sicuramente, sono questi foglietti che avevo già preso in passato e mi sono piaciuti molto perché non mi ero reso conto la prima volta che vi ho mostrato questo genere di adesivi che avevano queste, che erano così, vedete come sono, hanno i contorni come più lucidi, molto carini questi sono i foglietti, mi piacevano tanto le figure, non so se l'ho preso da Shein o Temo, penso da Shein, sì quasi sicuramente e poi mi piaceva perché c'era un foglio tutto per le scritte, questo un po' per le varie decorazioni e poi ce ne sono degli altri fatti così sempre, se riesco vi metto anche il link, devo vedere insomma di ricordarmi io ultimamente sto facendo dei video su Instagram, anche questo era un taccuino che avevo preso da Aliexpress questo però avevo una copertina completamente diversa, infatti i primi video che faccio su Instagram c'è la copertina quella gommosa e verde ma non mi piaceva, tanto che l'ho sostituita con questa di un personaggino dell'Assario che io direi che si chiama Pocciacco ma non so se sia il modo di dirlo giusto, praticamente questo era un libriccino fatto così adesso qua guardate è stampato ma io ci ho messo gli adesivi ma sto facendo appunto dei video su Instagram di quelli brevi dove faccio vedere come li decoro naturalmente è tutto molto semplice, molto facile, molto divertente ed è un modo per utilizzare questi adesivi e se no li uso anche per decorare, vi ricordate l'agenda questa qui di Aliexpress che poi io ho decorato all'interno così tutto con delle stampe di gattini e queste sono le pagine, alcune pagine ecco questi qua sono una serie sempre di questo genere qua, fatto così che vi ho mostrato l'altra volta in un e l'altro video Sheen e questi sono quel tipo di adesivi là, guardate che carini che sono con i contorni così e poi insomma sto andando avanti a decorare e tante cose le stampo anche da Pinterest alcune mi arrivano dai vari siti ma ci sono cose anche da Pinterest mi sono accorta adesso però che questi qua, questi fogliettini qua non sono adesivi ma sono foglietti semplici che vanno ritagliati, però mi farò anche le fotocopie perché voglio che mi restino per altre decorazioni questo l'ho preso da Temu, costava meno che sia da Aliexpress che da Sheen e dentro c'è insieme, era in cellofanato, c'era anche questo foglio di adesivi dentro è così e va bene appunto per fare quelle decorazioni che vi ho mostrato prima c'è anche il suo segnalibro, molto carino, ce ne sono in altre versioni però come sapete già tante cose si esauriscono facilmente tipo anche Temu, spesso non si trovano più certe cose non so neanche se poi le, oppure le fanno tornare sotto altre immagini un righello, così, di questi kawaii, presi sempre da Temu poi ho preso, non mi ricordo dove ma comunque ve lo, vi metterò sotto il link se ci riesco a ripescarlo questa specie di washi tape washi tape che vorrei riuscire a tirar fuori che mi piacciono molto per fare i bordi appunto di quelle pagine che vi ho mostrato da Temu, questo sono sicura, ho preso questi quattro, no, cinque fogliettini per decorare questi cinque tipologie di foglietti per decorare che vanno in base ai colori, ve li mostro di così, vedete questo poi ci sono sul rosa e sono praticamente da staccare possono sempre essere utilizzati per decorare appunto le varie pagine anche sull'agenda perché dopo ci si può anche andare a scrivere sopra questi sono molto molto carini e hanno un po' la funzione dei post-it però in varie misure ho preso questa molletta di quelle fatte così con, vabbè c'è la calamita dietro queste andrebbero attaccate al frigo credo o qualsiasi altra o una lavagna magnetica dove ci si tiene magari qualche foglio o qualcosa in realtà io le utilizzo per tener fermo il journal quando faccio varie decorazioni qui abbiamo delle due confezioni di questi adesivi io ne ho rendendo uno solo e non so come mai me ne hanno mandato due perché nel mio ordine ce n'era io ho visto uno, sono andata a controllare a becchiavolte sbaglio però stavolta mi sembra di non aver sbagliato proprio e vi mostro come sono siccome spesso quando si fanno quelle pagine si ha bisogno anche di avere delle scritte e mi piacciono sul nero così andiamo a vedere se sono non sono trasparenti hanno lo sfondo ah no no sono trasparenti fantastico fantastico vedete un po' queste scritte un po' così positive le solite cose vabbè tanto per decorare comunque la pagina ho preso questi adesivi qua fatti così questi sul rosa l'azzurro e il marrone e c'è un foglio anche dietro sono molto carini perché è un genere una tipologia non proprio kawaii volevo vedere se si potevano aprire da qua sotto che di solito si riescono ad aprire no apriamoli da qua sono fatti in questo modo sono molto molto eccoli qua col bordo bianco e vanno sempre insomma per perché io non faccio solo questa tipologia di pagine non faccio solo la tipologia quella kawaii ma faccio anche questa tipologia qua per esempio questi adesivi li avevo presi sempre da Temu un po' di adesivi e anche da da Shein mi sembra mi piace fare anche un misto così non per forza la pagina solo il tuo stile con le bimbette dicendo ma anche mettendo un po' sia di cose kawaii che di scritte un po' di tutto e quindi questi sono perfetti per andare a completare a mettere insomma quella punta di colore che può sempre servire ok poi adesivi questi sull'azzurro sono varie questi tutti sull'azzurro non troppo carini questi li ho presi da Shein mi sembra vabbè ma comunque se riesco vi metto sotto il link così capite col link dove li potete trovare ecco anche questi per dare quella punta di colore alle varie pagine magari si fa una pagina sull'azzurro sono proprio proprio belli queste due strisce io ne ho già utilizzata una per fare una pagina anche se ho dei pezzi avanzati mi piacciono molto queste strisce però c'è il difetto che quando le vai a tagliare poi dopo restano tutti i pezzettini in giro anche queste sono sul genere come quelle che vi ho mostrato lì della scatola che ha questi contorni lucidi molto belli e questo è fatto così questi li ho presi da Aliexpress però adesso che mi viene in mente qui c'è Aliexpress e poi non si ripete mai vedete è un nastro tutto non si ripete mai di solito quando io pensavo mi arrivasse il classico rotolo di washi tape dove si ripetono un po' le immagini invece questi no sono un'altra tipologia di adesivi mandati così in striscia dove la figura dove la figura non si ripete carini però resta il difetto che purtroppo quando si tagliano poi dopo restano tutti i pezzi in giro e poi c'era questo molto bello ho già aperto molto grosso tra l'altro molto grosso fatto così tutto del sushi e dentro c'è anche questo che non che penso che sia un washi tape non so se l'hanno aggiunto in regalo o era già aggiunto nel prezzo tutte le cose a base alimentare e dovrebbe essere tutto tutto praticamente che non si ripete anche questa tipologia qua un libricino di questi collage marrone che io avevo preso in passato da Shein credo rosa e l'ho preso anche sul marrone perché anche questo genere qua così sul marrone mi piace molto ed è un po' la stessa cosa di quello rosa dove ci sono tutti questi adesivi così con questa colorazione poi c'è anche in azzurro in verde insomma vari libricini dietro ci sono tutte le immagini andiamo avanti un libricino di questi che va a completare tutta la serie infinita di questi questa tipologia questo è sul rosa anche questi sono adesivi che servono sempre per fare quelle decorazioni che vi ho detto quando li sono trasparenti e quindi sono perfette sulle pagine questa tipologia di adesivi poi questi qua li avevo già presi in passato mi erano piaciuti molto e li ho ripresi perché hanno il fatto hanno il vantaggio che non hanno il bordo perché sono una cosa che non sopporto negli adesivi spesso il bordo sono questi qua con gli orsetti fatti così sicuramente ve li ho già mostrati e sono andata a riprenderli perché effettivamente sono un genere che mi piace molto anche da aggiungere a varie pagine non per forza kawaii si possono aggiungere così per dare quel tocco come vi dicevo prima di colore è un po' particolare insomma sono tanti personaggi fatti così e c'è anche qualche scritta ma poco niente però di questi me li ricordo bene ma li riprendo ogni volta ogni tanto li riprendo perché mi mancano ma io li finisco proprio quelli cioè mi piacciono poi post-it questi sul viola di questi ne ho diversi che vanno sempre sarebbero sempre per fare le pagine e per decorare appunto per fare sfondi il problema è che stranamente di solito li mettono di varie tipologie tipo tipo tempo fa avevo preso questo non mi ricordo da dove e guardate quante a parte che grande che è che grosso e guardate quante fantasie ci sono sempre sullo stesso colore che è bello che cambi un po' la grafica che non siano sempre uguali e mi aspettavo che anche questo fosse così invece è tutto uguale poi un libricino confezionato in questo modo questo che confeziona così è Shein sicuramente abbiamo questo libricino con tante pagine di adesivi anche qua purtroppo non sono pretagliati troviamo adesivi da tagliare quindi tutte queste pagine andranno in giro sicuramente mi piace il fatto che siano sempre suddivisi per colore questa cosa mi piace tantissimo molto carino veramente poi altri adesivi questi sul caffè cappuccino in versione trasparente vediamo non sono neanche questi ritagliati purtroppo bisogna andare a tagliarli per cui tanta roba bisogna tenerla dentro qualche busta se no si perderà in giro qua sei fogli dedicati al caffè macchina del caffè al caffè belli tre adesivi questi con dei gattini mi sembra si i gattini questi sono trasparenti ma troppo carini proprio belli 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 ma che belli questi adesivi sono veramente stupendi hanno dei colori pastellati che mi piacciono tantissimo bellissimi e soprattutto con un personaggio diverso dal solito e con i lieti dagli orsetti dei dei gattini adesso questo questi molto particolari che bello questo col pane così sono fantastici questa tipologia qua io l'adoro così disegnati sono davvero originali perché di solito si trovano trovo che su Temu ci siano cose un po' più originali queste le ho presi sicuramente da Temu cose un po' più originali dalle solite tipo questa tipologia qua che sicuramente magari è anche su Aliexpress però Temu ha il vantaggio di essere molto più veloce nella spedizione anche Sheena è veloce perché Aliexpress non riuscirà mai essere come Temu certo ha molta più roba e quindi è già più difficile magari e poi sono tanti venditori non lo so comunque guardate che carini questi totalmente originali poi mi piacciono tutte queste forme un po' più piccoli un po' più grandi che puoi inserirli dentro alle pagine così veramente sono stupendi vado via un po' veloce perché sennò questa è sulla versione rosa poi c'è una versione naturalmente con altre immagini viola gialla e viola gialla e verde questi sono verdi non sto a mostrarveli tutti e spero che siano ancora disponibili perché questi mi ricordo bene che li ho presi da Temu quindi dovrei riuscire a trovare velocemente il link sono proprio le ultime cose che mi sono arrivate poi sempre da Temu ho preso questi adesivi qua che sono molto piccolini ecco una cosa che non mi piace tanto è che sono queste sono un po' sberlucicosi alcuni hanno questa cosa e non è che mi fa impazzire e vanno sempre per fare appunto decorazioni composizioni nelle varie pagine c'è rosa sono veramente piccolini come vedete sono proprio piccoli però vanno bene per fare anche anche da bellire il post-it e metà carci queste cosine e poi ci sono tutti questi che sono veramente tanti con gli orsetti con vari personaggi le bambine i dolcetti i coniglietti un po' di tutto però ecco non mi piace tanto il fatto che siano così io spero che sia solo questo contorno qua perché mi sembra che questa non ce l'ha sberlucicamento o sì no c'è a seconda di come lo metti vabbè poi altri adesivi questi che ho già preso in passato e li ho ripresi perché li adoro sono veramente particolari di questi ce li ho sia sul viola e poi mi devono arrivare sul rosa e un altro e il verde mi sembra presi da Temu questi li vendono sia su Temu che su Shin però su Shin c'erano solo questi mentre su Temu trovi tutte le altre varianti sono troppo belli così cerco i cerchi con sono spostati però l'adesivo è dalla cartina sotto no ma mi sa che non sono come ah sì sì sono quelli guardate con le faccine così un po' particolari ragazzi si possono capire queste cose solo se ami fare le decorazioni perché sennò capisco che tanti non riescano a vedere la gioia cioè non riescono a provare la gioia che provo io ogni volta che vedo queste cosine eccoli qua e per ultimo per ultimo questo ecco qua questo notebook che ha insieme degli adesivi anche qui vanno ritagliati questo segna pagina e questi che vanno ritagliati e sono carta mentre questi sono adesivi e il nostro libricino è fatto in questo modo benissimo che ci sono i quadretti perché si va bene a fare è un po' tutto un po' tutto acciaccato mi sembra io l'ho preso sul viola c'erano anche altri colori e va sempre bene per fare le decorazioni per esempio adesso mi viene in mente che anch'io ho un libricino già così un po' più piccolo però e questo l'ho sistemato la copertina perché non mi piaceva c'era una copertina rossa io l'ho decorato in versione così kawaii e vi faccio vedere che si possono decorare anche in questa maniera che secondo me è bellissimo solo che col fatto che essendo senza righe si va molto male quando si fanno questa specie di etichette non si ha la perfetta insomma non si riesce bene anche se si usa il righello si fa un po' le righe un po' storte invece se ci sono i quadretti sicuramente è molto meglio va bene ecco questi sono gli acquisti che ci sono stati ultimamente ho trovato degli altri adesivi sempre stile questi che andrò a mettere via va bene ragazzi adesso io se riesco vi metto i link volentieri vi mando un grosso bacio alla prossima ciao ciao ciao